buongiorno a tutti oggi andiamo a riparare un alimentatore usb con connettore difettoso e quindi andremo a sostituire il suo connettore micro usb maschio utilizzando questo connettore vergine universale io sono alfredo benvenuti sul mio canale spesso capita di dover buttare un a caricabatterie micro usb semplicemente perché il suo connettore si è guastato e non è in grado più di caricare il nostro telefono per evitare questo spreco oggi andremo a sostituire questo connettore micro usb e quindi daremo nuova vita al nostro alimentatore di ricarica andando ad inserire questo connettore su qualsiasi dispositivo vediamo che è presente un difetto il led di questa piccola scheda si accende in maniera intermittente semplicemente toccando il cavo del connettore è evidente che il connettore è guasto vediamo come effettuare questa ennesima riparazione innanzitutto procuriamoci dei connettori vergini micro usb in questa inserzione su amazon ne troviamo 10 al prezzo di 9 euro circa in descrizione trovate tutti i link relativi ai materiali e agli attrezzi utilizzati in tutti i miei video acquistando i quali contribuirete al finanziamento del mio canale questo connettore si compone di diverse parti assemblabili la principale è il connettore vero e proprio che andrà saldato ai due fili presenti sul cavo è presente anche un involucro esterno di protezione vediamo come procedere a questa saldatura innanzitutto andiamo a rimuovere il vecchio connettore dal cavo con questo spellacavi andiamo a rimuovere la guaina esterna in gomma successivamente con la spellafini andiamo a spellare i due fili positivo e negativo di alimentazione rispettivamente rosso e nero per agevolare la diffusione dello stagno andiamo ad inserire questi due fili di rame all'interno di una pasta saldante solida che ci permette di effettuare una saldatura più veloce e migliore per verificare qual è il polo positivo il polo negativo di questo connettore utilizzando la stessa schedina di prima e verificando con le diceture le etichette riportate sul circuito stampato e il tester di continuità posto sui vari punti di connessione con il tester di continuità verifichiamo il polo positivo secondo l'etichetta riportata e il polo negativo una volta individuato il positivo e segnato in rosso possiamo procedere alla saldatura controlliamo da vicino queste saldature e chiudiamo con l'involucro esterno ovviamente l'involucro bianco esterno e il fermacavi andranno inseriti prima di effettuare la saldatura è previsto anche un pezzo terminale finale che serve per chiudere il connettore prima però personalmente preferisco inserire una goccia di colla a caldo all'interno di questo connettore per bloccare meglio i cavi sul connettore stesso se vi sta piacendo questo video questo è il momento opportuno per mettere un bel like e valutare anche l'iscrizione al mio canale grazie per il vostro supporto lasciamo asciugare per qualche minuto la colla a caldo facciamo un piccolo test inseriamo la spina del mio alimentatore e verifichiamo che ora il led della mia basetta si accenda regolarmente e dunque il mio alimentatore usb è riparato alla perfezione e abbiamo evitato di farlo finire nella spazzatura soltanto per uno stupido connettore per concludere aggiungo che questi connettori sono disponibili anche in versione type c per riparare i nuovi caricabatterie bene amici anche per oggi è tutto io vi ringrazio per la visione spero che questo video vi sia stato utile come al solito vi invito a mettere like iscrivervi al canale e anche condividere i miei video con i vostri amici e ci vediamo alla prossima volta